34. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, filosofo, ingegnere e logico-austriaco, autore di contributi di capitale e importanza per la fondazione della logica e per la filosofia del linguaggio. Dice, vive eterno colui che vive nel presente. Commento, tutti viviamo eterni perché tutti, anche se ne siamo inconsapevoli, viviamo nell'eterno presente.